Ha potuto finalmente riabbracciare la sua bambina, Nazanin Zagari Radcliffe, la cooperatrice umanitaria britannica di origine iraniana, arrestata come spia nell'aprile del 2016 all'aeroporto di Tehran, mentre stava rientrando a casa dopo una visita alla famiglia. La donna, condannata a cinque anni di carcere, ha ottenuto un permesso di tre giorni per rivedere i suoi cari. Sua figlia oggi ha quattro anni e vive con i nonni in Iran, perché le è stato ritirato il passaporto. Il marito di Nazanin, Richard Radcliffe, dice che ora l'obiettivo è prolungare il permesso. Dovrebbe tornare in prigione domenica, ma c'è la possibilità che venga prolungato. Il primo step è quindi ottenere questo. E poi bisogna continuare la campagna per la sua liberazione e fare pressione. Francamente mi aspettavo una battaglia con i due governi. Bisogna capire ora come continuare. Che sia chiaro, non smetterò di battermi finché non tornerà a casa. Molte persone stanno sostenendo la battaglia del marito di Nazanin, che per ottenere il permesso d'uscita si è impegnata a non lasciare il paese, a non fare visita ad alcuna ambasciata e a non rilasciare interviste ai media. Le autorità iraniane ritengono che la donna abbia partecipato nel 2009 a manifestazioni per rovesciare il regime. Nazanin nega.